In vent'anni le protesi ortopediche in Italia sono più che raddoppiate, nel 2019 superarono quota 220.000, poi il Covid ovviamente ha abbassato i numeri, ma c'entra l'invecchiamento della popolazione, ma la degenerazione delle articolazioni può essere rallentata, bisogna agire prima e si può agire anche con le cellule staminali. Cinzia a dici anni. I primi sintomi di artrosi dell'anca o del ginocchio possono comparire verso i 50 anni, soprattutto fra le donne più esposte dopo la menopausa. Prima che il dolore arrivi a limitare la qualità della vita, si può ricorrere alle cellule staminali, impiegate da una decina d'anni in ortopedia per i loro effetti rigenerativi e antinfiammatori. Abbiamo cominciato con le cellule staminali midollari per trattare i problemi vascolari delle teste del femore. La novità è il trattamento delle forme di artrosi, anche delle forme iniziali di artrosi. Le staminali di origine adiposa quasi sempre estratte dall'addome. Sono più numerose, più concentrate, più efficienti, invecchiano di meno con l'età del paziente e sono sicuramente più facili da prelevare. Quindi le concentriamo e le infondiamo nelle articolazioni affette da questi fenomeni artrosici. I bioingegneri della Dental School dell'Università di Torino ne analizzano qualità biologiche e vitalità. Da un prelievo iniziale di 100 ml di tessuto si ottiene poi un 20 ml di tessuto finale microfragmentato concentrato ad alta concentrazione di staminali. La quantità varia anche in relazione all'età. Possiamo ottenere da 100 mila a un milione di staminali per ogni paziente da infondere e abbiamo però visto che in genere i risultati sono buoni anche con concentrazioni abbastanza basse di staminali. I migliori risultati si ottengono su forme iniziali di osteoartrosi non di origine reumatica. Questi pazienti vanno molto bene non solo perché migliorano dal punto di vista clinico ma perché non evolvono verso delle artrosi più gravi. Si studia l'efficacia del congelamento delle cellule per consentire infusioni ripetute ma la nuova frontiera sono i secretomi, preziose molecole che contengono vari fattori secreti dalle staminali dall'alto potenziale rigenerativo. Potrebbero essere ricavate da grandi culture cellulari in vitro. Questi secretomi possono diventare a loro volta dei farmaci. Non si tratta più di una terapia cellulare ma di una terapia molecolare che consente di stimolare in maniera continuativa, con successive infusioni come adesso si fa con l'acido diavaronico, le articolazioni allo scopo di migliorare la qualità della cura soprattutto nel tempo. È tutto Linea Milano a Piazza Affari, ci rivediamo domani. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.